Questa settimana il nostro approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale. Oggi abbiamo incontrato Don Luca Peiron, un sacerdote che sta studiando il tema e si sta dedicando a queste attività. Lancia però un allarme. Fabio De Ponte. L'intelligenza artificiale assume sempre più decisioni. Diventa perciò fondamentale che l'opinione pubblica abbia consapevolezza di come funzionano questi sistemi. Pensiamo banalmente all'erogazione di un mutuo piuttosto che alcuni processi sanitari, diagnosi eccetera. Si dice che l'umano deve essere al termine del processo, ma se semplicemente io metto un umano in un ufficio che mette i timbri su quello che la macchina ha deciso, quello non è il modo di mettere l'umano nel processo. E' un appello a governare l'applicazione dell'intelligenza artificiale, quello lanciato da Don Peiron, un sacerdote che ha fondato il primo apostolato digitale e che insegna teologia della trasformazione digitale all'università cattolica. Perché dice che l'intelligenza artificiale riduce le nostre fatiche. Però dietro ad ogni fatica c'è un'assunzione di responsabilità. A un certo punto stiamo giungendo a togliere alcune fatiche e quindi alcune responsabilità che però ci costituiscono come esseri umani, come persone. Anche perché sottolinea demandare la tecnologia a volte costa davvero caro. E' il caso per esempio dell'uso ormai sempre più diffuso del telefonino o del tablet come babysitter. Su cui uno studio dell'Associazione Americana di Pediatria lancia l'allarme certificando un dato davvero impressionante. L'utilizzo di un strumento digitale in un bambino da 0 a 6 anni può comportare la perdita di un quarto della materia bianca del cervello. La materia bianca è quella che presidia il linguaggio, che presidia l'orientamento, che presidia la capacità di discernimento eccetera eccetera. Insomma la tecnologia è comoda ma nei più piccoli fa danni gravi. Perché nel momento in cui noi scriviamo le lettere con la penna le nostre sinapsi si collegano in un certo modo e a quel gesto corrisponde la lettera. Schiacciare A o schiacciare D è la stessa identica cosa, il nostro cervello non distingue A da D. E poi abbiamo i dislessiti, i disgrafici, il distutto. E i risultati si stanno già vedendo. Anche l'impennata di tutti questi dis qualcosa ha a che fare con l'uso massivo di tecnologia. Buongiorno a tutti.